Pronto. Ma devo informare che c'è una squadra di calcio intrappolata in una grotta. Il comandante ha detto che forse dovremo intervenire. Questo è il punto da dove i ragazzi sono entrati. E questo è dove crediamo che si trovino. Se sono ancora vivi. Un sommozzatore della marina tailandese è morto cercando di salvare i 12 ragazzi e l'allenatore intrappolati in una grotta in Thailandia. Che ne diresti se andassi in Thailandia? E perché dovresti andarci? È stato fatto un appello ai subcivili per dare una mano con le operazioni di recupero messe in atto dalle autorità tailandesi. Non fanno immergere più nessuno oltre la Camera 3. Non dopo aver perso un uomo. Sicuramente daranno l'ok quando l'ossigeno scenderà ancora. Tutti i caposommozzatori prenderanno un ragazzo e lo porteranno dalla Camera 9 alla Camera 3. Un solo ingresso, una sola uscita. Sappiate che con una minima perdita quei ragazzi moriranno. Qui in diretta dalla grotta di Tanhuang, nella Thailandia del nord, provincia di Chiang Rai, dove tutto indica che sta per accadere qualcosa. Non vuole mettere a rischio la vostra incolumità a causa del livello dell'acqua. Non dovete preoccuparvi. Sappiamo badare a noi stessi. Penseremo a farli uscire. Arrivano! Non farne assolutamente parola con nessuno. Forza, signori! Aiutiamolo! Che probabilità ci sono. Su! Non tutti tornerebbero a casa. Leo, Leo, Leo! Dale, Dale! La mia curha è robata, sì, a oggi vive, a oggi è fare con il cielo. Il bonsor era paura che non si non esslai Type, allo è Lily. Quindi, dovete fareanki i miei ammplissare, e qual è? È un v geology che non si non presenta willende! È sicuro parecchio, assolutamente,